Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, finalmente abbiamo un po' di ciccia riguardante FIFA 22, dopo un po' di assenza e leak vari oggi sono uscite le pitch notes per cui andiamo a scavare per bene nel dettaglio del gameplay di FIFA prossimo il 22 appunto e ci sono un sacco di novità veramente interessanti a partire dall'attacco, passando per la difesa quindi ce le andiamo a guardare insieme perché meritano secondo me di essere approfondite come potete vedere ci ritroviamo subito sulla schermata, magari avete fatto anche caso che non è il mio setup abituale, difatti sono nella John Fondatore Caverna che vi assicuro un setup qui devastante, quindi merita, dopo vi farò vedere su Instagram storie e cose come potete vedere abbiamo subito un'introduzione all'hypermotion gameplay technology, ci dice insomma che il nuovo motore grafico è la base di FIFA 22 su PS5, Xbox serie X eccetera eccetera ed è basato su l'Advanced 11v11 motion capture technology, quindi che cosa hanno fatto come ci siamo detti anche in precedenza per andare a registrare quelli che sono i movimenti dei giocatori non hanno preso dei singoli calciatori ma bensì hanno registrato le dinamiche di due squadre che giocavano le une contro l'altra visto che la chiave di FIFA 22 sulla quale vogliono spingere tanto è realismo e rivoluzionarietà difatti dicono che sarà il gioco che più segnerà il distacco col passato e ci saranno veramente tantissime novità come possiamo vedere qui ci fa vedere appunto che su FIFA 22 guardate è stato fatto questo sistema di cattura di tutti i movimenti andando a registrare appunto in presa diretta quella che è una partita e poi vengono riprodotti esattamente all'interno del videogioco tra l'altro sono stati utilizzati giocatori di serie più basse tra virgolette visto che avevano un maggiore agonismo hanno detto loro quindi questo è tutto il processo decisionale, vedete questo era il prima, questo invece risulta il dopo con questo nuovo motore grafico che quindi risulta molto 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 più realistico ci dice che appunto un'altra tecnologia utilizzata è quella del machine learning dell'ML Flow ovvero andando a combinare quello che è il mockup 11v11 con la potenza delle nuove console e il machine learning ci ha dato la possibilità di andare a migliorare come i giocatori approcciano al pallone sul campo siamo stati in grado di poter utilizzare 8,7 milioni di frame nuovi di dati per andare appunto a migliorare quello che è la rete neurale al di fuori ma anche all'interno di una partita con la maggior insomma dettaglio di informazioni possibile su FIFA 22 questo dunque ha fatto sì che si venisse a generare questo ML Flow Neural Network che vedete insomma come va a funzionare vedete quelle che sono una sorta di alone è proprio l'approccio al giocatore successivo al movimento del suo compagno vedete tutta questa serie di movimenti neurali dei giocatori all'interno appunto dell'azione questo invece era quello che succedeva prima ci fanno vedere invece questo è quello che succede esattamente dopo con l'ML Flow vedete come il giocatore approccia in maniera molto più realistica al pallone al fine di poter ritrovarselo subito disponibile tra i piedi ancora ci dice che di nuovo all'interno di FIFA 22 c'è questo full team authentic motion quindi è molto più realistico il movimento di tutta la squadra che andrà ad avanzare e a muoversi in base a quello che è il movimento non solo dei propri compagni ma anche e soprattutto degli avversari ci sono 4000 animazioni nuove un'altra cosa fondamentale è questa tattico l'IAI loro sono andati praticamente a riscrivere l'intelligenza e la tattica dei giocatori di tutti i 22 giocatori sul campo andando ad enfatizzare quelli che sono i ruoli e ruoli la loro personalità e lo spirito di squadra quindi i giocatori vanno a capire meglio cosa fanno i loro compagni e lavorano meglio insieme e riescono anche a capire come detto quelle che sono le tattiche degli avversari e i movimenti avversari è stato fatto anche un bel revamp a quello che è l'attacco quest'anno l'intelligenza artificiale nuova dà la possibilità di avere un tempo di decisione 6 volte migliore più rapido rispetto a quelle che erano le decisioni prese dalla CPU in attacco negli scorsi anni e ancora come l'anno scorso il positioning dell'attributo continuerà a essere molto importante al fine di avere giocatori che risulteranno essere più forti o meno in fase offensiva stessa cosa appunto come detto cambia anche in fase in fase difensiva e appunto la tattica la tattico lì ai dà la maggiore personalità in FIFA 22 anche in fase difensiva e defensive work rates quindi alto, basso, medio insomma hanno un impatto significativo sul posizionamento difensivo dei giocatori e andando a posizionare un giocatore questo è importantissimo in un ruolo di difensore centrale che non è un difensore centrale questo andrà a impattare negativamente quindi finalmente dovrebbero scomparire i terzini difensori centrali che andrebbero a lasciare dei buchi pazzeschi quindi questo è un esempio di quello che ci fanno vedere con quello che accadrà con FIFA 22 vedete qui come si va a muovere tutta la difesa anche avversaria in base a quello che è il movimento del pallone vedete come la squadra segue esattamente il giropalla del Real in questo caso il Milan in fase difensiva per coprire gli spazi in maniera abbastanza lineare un'altra cosa molto importante riguarda quelli che sono i competitive settings ovvero Master Switch cosa significa? sono una serie di impostazioni che è possibile andare ad attivare dal controller che per dare una maggiore equità all'interno del gameplay sono settati in maniera uguale per tutti in quelle che sono le modalità competitive ovvero Rivals, Foot Champions, Stagioni Co-op, Pro Club e Stagioni Online e quali sono queste impostazioni? molto semplice ovvero il dribbling agile contestuale sarà sempre su off le spazzate automatiche non ci saranno non ci saranno i passaggi di eleganti automatici non ci saranno i tiri automatici il colpo di testa non sarà assistito l'affronta quindi l'elt in fase difensiva diventa manuale e non più assistito questo sarà una rivoluzione incredibile raga perché vi assicuro che il 90% dei player usa assistito quindi vi dico magari iniziate a fare qualche partita a FIFA 21 con manuale perché ne troverete beneficio e poi i passaggi filtranti saranno su semi così come io vi avevo detto in un video durante quest'anno di metterlo perché risultavano molto più precisi quindi a prescindere se l'avete fatto vi siete portati avanti qua invece ci dice che nelle stagioni online nelle amichevoli il competitive switch qui è di default però si può anche andare a togliere qui vedete basterà semplice mettere su on il competitive master switch per avere tutte le impostazioni piazzate già in automatico sarà possibile poi andare ad analizzare i match più nel dettaglio questo magari potrebbe essere interessante lato sportivo per i coach che vanno ad analizzare il possesso palla gli expected goals quindi le azioni create dovevano portare a un certo numero di goal qui per esempio 4,7 e effettivamente i gol sono stati 5 ci sono le intercettazioni offside come c'erano sempre i contrasti vinti le parate falli fatti solite cose un'altra cosa che però è presente è la heat map quelli che sono praticamente le aree coperte durante la partita dai giocatori vabbè nulla di insomma eclatante però cose che possono far piacere a quelli che vogliono un'esperienza di gioco più immersiva vedete qua vi fa vedere i tiri dribbling riusciti i passaggi i tackle e in questo caso le parate addirittura abbiamo già visto che ci sono queste battaglie aeree cinetiche che danno la possibilità appunto di avere dei contrasti aerei più realistici tra i vari giocatori sia in fase offensiva che difensiva vedete spesso e volentieri i giocatori cadono in maniera più naturale si alzano questo vi fa vedere come è stato catturato all'interno della palestra e poi c'è questa dinamica dell'explosive sprint una dinamica che secondo me sarà un po' più controverso ovvero questo praticamente speed boost che voi potete andare a fare appunto per lasciarvi alle spalle i difensori qui ci fa vedere esattamente come andrà a funzionare vedete questo è senza explosive sprint ovvero i due giocatori corrono e semplicemente vanno a scattare questo invece è l'explosive sprint vedete il giocatore va a rallentare e poi boom si lancia in avanti e questo sarà esattamente fondamentale per andare a lasciare sul posto i difensori avversari abbiamo già parlato della player humanization quindi i giocatori daranno molto più peso a quelle che sono le loro emozioni durante la partita questo per dare un maggiore realismo mentre per quanto riguarda la palla ci sono 4000 nuove animazioni che riguardano sia quella che la frizione del pallone sul terreno giocatori che appunto vanno a controllare il pallone in maniera differente questo per dare sempre ulteriore realismo al gioco una cosa sulla quale hanno lavorato tanto quest'anno molto interessante sono poi le tattiche tattiche offensive che vedono una nuova voce ovvero quella della chance creation e appunto ci dice che è possibile avere la tattica equilibrata ovvero quella utilizzata per avere la squadra equilibrata eccetera 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 i giocatori faranno inserimenti al momento giusto e così abbiamo poi lo slow build up quindi invece di mano veloce manovra lenta quindi i giocatori andranno a supportare l'attacco della squadra invece che in maniera diretta con molti inserimenti lo andranno a fare invece con scambi un po' più vicini abbiamo poi long ball palla lunga e manovra veloce che già conoscevamo come detto poi ecco qui la voce è quella della chance creation una totalmente nuova abbiamo sempre il solito equilibrato abbiamo possession ovvero possesso palla quindi questo ci darà la possibilità di avere maggior supporto a quelli che sono i dribblatori in fase offensiva invece che avere degli inserimenti praticamente random questa tattica diciamo è molto utile per chi gioca tra fraseggi molto vicini per avere insomma la giusta chance in attacco abbiamo poi direct passive quindi passaggi diretti quindi insomma scambi molto rapidi tra le punte basati sugli inserimenti dei giocatori al di dietro di quella che è la linea difensiva degli avversari giocatori che sono veloci hanno un ottimo posizionamento d'attacco sono quelli che sono i migliori per questa tattica e poi abbiamo le forward runs anche questa è una nuova cosa ovvero che va a pushare in avanti i giocatori all'interno dell'area offensiva avversaria però se tu perdi la palla potresti trovarti ed essere esposto ai contropiedi quindi forward runs significa che tutte le vostre ali tutti i vostri esterni e credo anche i terzini si fanno buttare dentro e quindi vi lasciano esposti a contropiedi e potrebbe essere magari una tattica molto interessante per quanto riguarda il recuperare le partite abbiamo poi il compost ball control una nuova dinamica attraverso la quale ci dice che le animazioni sono lunghe sono più lunghe attraverso tocchi due tocchi che fanno sì che il tocco del pallone sia più naturale questo ci dà la possibilità di poter intrappolare il pallone con maggiore fluidità e maggiore precisione è esattamente quello che ci viene mostrato e ci è stato mostrato anche nel trailer scorso vedete qui Foden che mette palla composta con questo stop di petto e poi se l'aggiusta sul piede destro queste animazioni vanno ad attutire quello che è appunto il pallone e fanno sì che il giocatore ha un controllo più preciso e accurato e in particolare è possibile andare a fare un compost ball control quando non si sta correndo quando non ci sono avversari nelle vicinanze tranne per alcune animazioni particolari che si fanno con L2 per quanto riguarda la levetta sinistra che è quella con la quale si fanno i micromovimenti rimane esattamente attiva nel momento in cui si fanno a fare questi compost ball control ci sono poi specifici attributi che insomma fanno sì che questo compost ball control risulti più efficace come ad esempio almeno 70 di controllo palla e 60 di agilità o per quanto riguarda il controllo palla aereo o di terra per quanto riguarda invece quello di shielding ovvero di insomma quel classico movimento da attaccante boa bisogna avere almeno 60 di ball control e 70 di forza la consistenza di questi attributi scala e il cap è comunque su un 92 di media per quanto riguarda gli attributi menzionati in precedenza qui ci fanno vedere ancora nel dettaglio il compost ball control vedete qui come il giocatore va a mettere la palla a terra dopo aver ricevuto questo lunghissimo traversone e lo va a fare avendo poi esattamente la palla a sua disposizione lasciando il marcatore alle sue spalle per quanto riguarda il controllo di palla abbiamo detto che è stato reworkato molto lo shielding quindi l'L2 che è molto enfatizzato su quello che riguarda la personalità del giocatore dove forza e controllo palla sono gli attributi fondamentali affinché questa meccanica risulti il maggior modo efficace si va anche ad applicare per quello che è il contextual shielding quindi con l'R2 e in particolare è stato andato anche a migliorare quello che è lo shielding delle palle aeree e c'è anche il contextual airball shielding questo ha la possibilità di giocatori molto forti di andare a difendere il pallone in maniera naturale in quelle situazioni in cui il pallone viene contestato il giocatore però ha bisogno di 85 per andare per fare lo shield contestuale o 75 se il giocatore ha 5 in meno di forza quindi si va anche a scalare su quello che è l'avversario che si ritrova in difesa questo sistema di active touch può insomma dar vita a maggiori situazioni e ridurre il caso di giocatore che non va a controllare il pallone sono stati toccati anche tantissimo i passaggi sono state refreshate le animazioni con nuove animazioni che sono state appunto aggiunte e c'è una maggiore pulizia di quelli che sono i passaggi fatti bene preesistenti ci sono i passaggi quelli rasoterra che sono stati revampati quindi modificati dando una maggiore precisione in quello che è il ricevitore del passaggio mentre per quanto riguarda anche quelli che sono i passaggi semi assistiti rasoterra anche questi sono stati refreshati con il nuovo sistema per quanto riguarda l'ob quindi quelli con l'1 anche questi hanno maggiore consistenza e vi dico state attenti perché questi passaggi con l'1 diventeranno sicuramente devastanti e poi abbiamo il semi assist true passes anche questo sono stati sempre nell'ottica dei competitive settings sono stati espansi e quest'anno hanno una maggiore assistenza e sono quasi simili a passaggi semplici quindi io qua starei attento ci dice che maggiore più è difficile più andrà lontano il passaggio più preciso è il giocatore e più ovviamente il passaggio avrà un esito positivo vision assistance è un parametro che se è varia da 85 a 99 permetterà ai passaggi di essere molto molto preciso sono stati aggiunti poi anche una serie di transizioni ulteriori ovvero questa pass transition che fa riferimento a un sistema che va a migliorare quella che è la responsabilità e va a permettere ulteriori transizioni tra passaggi differenti quindi tu puoi andare a richiedere diversi tipi di passaggi e il sistema andrà esattamente a loccare su quello che è la richiesta del nuovo passaggio ed è molto interessante soprattutto quando la situazione cambia quindi se tu vuoi fare il passaggio coa magari poi vedi un passaggio filtrante lungo c'è molto più tempo affinché ti dà la possibilità di poter cambiare idea inoltre ci dice che il ricevitore di quello che è il passaggio lungo ci dà il risultato di avere dei bersagli più precisi quindi se io voglio fare un filtrante alla punta e magari in passato mi agganciava il centrocampista questo non dovrebbe insomma accadere e poi ci dice che quella che è la warness quindi la sensibilità del ricevitore è aumentata affinché i suoi compagni di squadra vanno a capire in maniera automatica nel momento in cui lui è effettivamente un target per il passaggio o meno viene poi anche migliorata quella che è la personalità nei passaggi quindi sono influenzati da questo vision attribute dagli attributi di passaggio e anche da quelli che sono la velocità del giocatore nel momento in cui noi stiamo andando a fare un passaggio o nella velocità del giocatore che sta ricevendo il passaggio più il giocatore va veloce ovviamente minore è l'impatto negativo del passaggio per quanto riguarda il tiro anche qua è stato migliorato tanto quella che è la consistenza nelle situazioni di 1v1 tirare in situazioni difficili con il giocatore vicino al pallone ha visto una conversione ridotta e quindi va a scalarsi su quello che è la situazione quindi se il tiro è proprio estremamente difficile non andrà a segno nel momento in cui invece è una situazione di mezzo sarà anche possibile andare a segnare andare a tirare da spazi troppo angolati o stretti ha ridotto quella che è la percentuale di di vederli andare a bersaglio grosso ovviamente tutte queste situazioni dipendono da quello che è l'attributo di tiro e inoltre un altro elemento fondamentale è che la percentuale appunto di goal aumenta nel momento in cui l'attributo sale ovviamente per quanto riguarda il dribbling si sono andati a focussare su quelli che sono i fondamentali andando ad aggiungere alcune meccaniche il super knock on praticamente andando a fare un doppio flick dell'analogico destro in avanti questo fa praticamente andare la palla in avanti e se tu lo ributti sempre con RS ci sarà un secondo flick che farà appunto avere un altro flick la palla andrà sempre più in avanti questo ve lo dimostra ecco qua guardate la palla praticamente da centro campo è arrivata quasi all'interno dell'area di rigore con questo doppio flick anche qui questo mi sembra una specie di super bridge onestamente sta roba mi sembra un po' ambigua signori della EA cosa sto vedendo speriamo che sta roba sparisca quanto prima cioè che cos'è ma chi è superman che boh vabbè facciamo finta che questa cosa non l'ho vista perché sono un attimo perplesso riding tackle touch ci si dà la possibilità di poter dribblare qualcuno che sta difendendo con l'analogico sinistro se vai effettivamente a fare il dribbling con il giusto input c'è un dribbling c'è un migliore controllo del dribbling ad alte velocità con tocchi che vengono fatti più piccolini in maniera tale che la palla rimane più vicina al piede ci sono questi quick turn ed exit per far sì che ci sono queste animazioni molto più più rapide anche qui è stata aggiunta maggior player personali durante i dribbling e soprattutto la corsa performando questi knock-ons che già so che devono essere patchati altrimenti già sto volando c'è questo manual dink dribble touch ovvero pressando r3 durante un dribbling per fare un dink touch mentre stai dribblando andrà a evitare quelle che sono le gambe del difensore non so questo sia questo dink dribble touch mi auguro che sia magari quello scavetto che prima era automatico ora mi auguro che sia diventato manuale e c'è anche questo contextual dink touch che quando è attivato il dribbling agile contestuale quindi non ci importa perché nelle WL sarà disattivato permette di poterlo fare in maniera automatica infatti ci dice che è disattivato nei competitive settings balanzate quindi equilibrate quelle che sono le skill moves finalmente hanno tolto la skill della crocchetta dell'elastico del reverse elastico e dello scoop turn cancellato ringraziando nostro signore stata ridotta la velocità del bridge e del tunnel direzionale ringraziando nostro signore sono state aggiunte delle skill i drag backspin il four touch turn e anche il doppio passo che può essere cancellato va bene drag to drag skill move può essere triggerata andando a tirare indietro rs queste sono tutte nuove animazioni che dovremo vedere e il tacco tacco è più difficile da fare va bene signori della yay e ci sono nuove animazioni per il tunnel direzionale fatto di 90 gradi grazie first time skill moves sarà possibile anche andare a fare le skill di prima quindi nel momento in cui arriva la palla fate già l'animazione e la skill vi parte la skill di prima alcune non possono essere fatti come ad esempio la finta di corpo il tunnel direzionale il bridge e i doppi passi non possono essere fatti skill di prima su driven pass quindi quelli fatti di potenza e ovviamente in alcune situazioni poi la palla sarà più difficile da controllare però guardate qui passaggio di prima subito veronica questa pure potrebbe diventare una cosa molto 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 interessante in partita per sorprendere il vostro avversario che sta difendendo appunto queste sono le skill che sono state introdotte il four touch turn quindi mantenendo l2 e portando rs all'indietro due volte abbiamo poi lo skilled bridge amici miei quindi un bridge praticamente tenendo premuto l2 già mi faccio il segno della croce il first time spin che credo sia quella roulette che abbiamo visto in precedenza è lo scoop turno fake quindi hanno messo già uno scoop turno fake invece di cancellarlo quindi l'hanno tolto e poi hanno fatto una skill ad hoc bene per quanto riguarda la difesa abbiamo già visto che hanno reworkato i portieri con 609 animazioni sono stati fatti un sacco di cambiamenti per quanto riguarda la difesa sono stati andando a migliorare quelli che sono i tackle ci sono una maggiore precisione in quelli che sono appunto i contrasti in piedi ci sono anche tutta una serie di nuove animazioni quando la palla viene rimbalzata solitamente rimbalza meno sono state ridotte le situazioni dove venivano fatti tackle automatici da dietro è stato migliorati i tackle per le palle aeree è stata aggiunta tutta una serie di varietà appunto alle deviazioni automatic blocks sono meno effettivi quando il giocatore non sta facendo le due che però vabbè automatic blocks are not a essere successfili per nuovo che ne sono missing ci dicono che praticamente gli autoblock probabilmente dovrebbero fallire però amici miei c'è chi ha provato il gioco ha detto che potrebbe essere il fifa 22 con il maggiore autoblock della vita quindi vediamo vediamo quello che succederà ci dice poi che sono state aggiunte anche tutta una serie di roba come l'autoblock manuale quindi lo togliamo però comunque lo facciamo diventare una roba si schiaccia praticamente il tasto del contrasto quando la palla è vicina ai piedi del tuo giocatore stessa cosa per quanto riguarda le challenge spalla a spalla quindi se stai correndo a fianco al tuo avversario lo spintoni dandogli appunto spallate con cerchio tutta una serie di tackling personality che dipendono dagli attributi eccetera eccetera è stata aggiunta anche la massima velocità dell'affronta stessa cosa per quanto riguarda praticamente l'explosive sprint è stato dato la possibilità ovviamente di farlo anche al difensore che ci sta altrimenti era troppo unfair come cosa per quanto riguarda le intercettazioni hanno introdotto queste disrupt interceptions ovvero un mix tra quello che è il controllo del pallone e bloccare il pallone quindi l'obiettivo qui è quello di andare a distruggere quello che è appunto il corso del pallone anche se questo significa non recuperare il pallone quindi praticamente sono dei disturbi ok magari tu il giocatore non intercetta ma va a disturbare quello che è la ricezione del pallone dell'avversario poi è stato introdotto questo team mate contain quindi il fantomatico raddoppia che tanto in passato era fondamentale ci dice che qui si schiaccia r1 e c'è una sorta di stamina ok che manda il randoppio il proprio compagno quindi doveva durare tipo 2-3 secondi sta roba dopodiché il giocatore va a castagne quindi c'è da capire se poi sarà effettivamente utile è stato introdotto anche questo switch con l'R3 che vedete vi dà la possibilità poi di poter andare a fliccare l'analogico nella direzione che vi pare per prendere uno di questi 4 giocatori ed è una cosa che ha molto molto senso questa andando ad attivare l'icon switching su on ci sono tutta una serie di ulteriori informazioni per quanto riguarda l'auto switching sulle palle aeree eccetera eccetera parla poi anche di quelli che sono ulteriori tattiche e istruzioni che possono essere customizzate quindi c'è ad esempio lo step up per quanto riguarda i difensori centrali e i terzini che dà la possibilità di poterli far avanzare per ricevere il pallone oppure la forma libera per avere che i mediani sono sempre più playmaker anche in fase offensiva qui intanto c'è uno screen del 5-3-2 già questa cosa mi spaventa e poi c'è l'overlap distraction nel momento in cui anche per i difensori centrali per le difese a 3 o a 5 che danno la possibilità ai difensori di buttarsi in avanti appunto per poter recuperare le partite le partite qua c'è tutta una serie di animazioni che sono state introdotte nel momento in cui si parla di player movement e di velocità per quanto riguarda le punizioni sono essenzialmente se stesse è stata aggiunta la tecnica di tiro di Beckham insomma tutta una serie di cose queste per quanto riguarda appunto per quanto riguarda le palle da fermo per i giocatori che hanno gli piace insomma la sfida ne abbiamo anche di fare reworkato quella che è la difesa della cpu per esempio delle squad battles per quanto riguarda ad esempio difficoltà estrema eccetera eccetera hanno dato molta enfasi a quelle che sono le physical play quindi hanno dato tanto valore all'attributo della forza a seconda delle situazioni hanno aggiunto e migliorato passaggio tiro e tackle back per quanto riguarda la priorità che viene data a quelle che sono le animazioni di tiro nel momento in cui l'avversario è vicino all'attaccante quindi nel momento in cui il difensore arriva è prioritario il mio tiro sul suo contrasto poi hanno anche hanno anche aumentato quelli che sono i fifa attributes vabbè per quanto riguarda le modalità di kickoff online season che non ci importa ci sono poi tutta una serie di cose che riguardano insomma le porte eccetera eccetera che a noi non interessano quindi fondamentalmente a livello gameplay hanno veramente toccato una valanga di cose queste sono le principali praticamente ce le siamo viste tutte quindi è venuto un video bello corposo quindi tutte le volte che mi direte cosa cambia io vi butterò questo video ragazzacci fatemi sapere nei commenti che ne pensate perché secondo me veramente c'è tantissima ciccia quest'anno a cuocere su questo fifa 22 potrebbe essere veramente l'anno zero un po' per tutti e io vi rimando ovviamente alle live sulla piattaforma viola che nonostante sia estate comunque stanno riprendendo vi rimando qui sul canale sempre con video su fifa 22 e a breve vedrete che usciranno sempre maggiori informazioni anche su web app eccetera eccetera non vi spoilerò nulla quindi raga vi auguro una buona serata grazie per essere arrivati fino a qua e statemi bene ciao